Ciao Riccardo, gentilissimo di sempre, è una partita tiratissima come tutta la serie. Cosa secondo te ha fatto vendere la bilancia per Povarenza? Io credo che dopo il nostro inizio, direi brillante, ci siamo un attimo seduti e loro sono tornati in partita, abbiamo preso delle penalità che potevamo evitare, sono stati anche bravi loro a far pressione e poi hanno segnato due gol, hanno portato la partita, abbiamo provato a spingere alla fine ma si sono chiusi bene, il portiere ha parato bene. Un breve riassunto sulla stagione di questo piano che è avuto un crescendo veramente importante e soprattutto cosa ti aspetti per la prossima stagione per l'arrivo da questa visto che ci sarà uno step ulteriore a livello di qualità, squadre e tutto il resto. Allora io non posso essere che orgoglioso della mia squadra e del campionato che abbiamo fatto. Avrei messo la firma per arrivare in gara 5, in semifinale contro il Povarese. Io credo che il nostro percorso di crescita dei giovanisti sia funzionando ogni anno facciamo uno step in più. che cosa aspettarmi dall'anno prossimo non ne ho la più pali di idea. In questo momento brucia così tanto la sconfitta e ho anche un'età per cui devo anche pensare cosa fare. Non so se ci sarò più, ma devo ancora decidere. Ti ringraziamo gentilissimo di sempre, ti baciamolo in bocca al lupo per il prossimo stagione e soprattutto il futuro per capire da dove vorrei fare. Grazie mille ancora, gentilissimo di sempre. Grazie, voi in bocca al lupo. Grazie. Grazie.